Non c'è nessun rischio e nessun allarme tubercolosi a Cosenza, a dirlo sono i medici dell'annunziata, pur essendoci nell'ospedale Bruzio delle persone, tutte straniere, colpite da questa malattia ricoverate nel reparto malattie infettive. Dunque non vi è nessun rischio per la popolazione, anche se la notizia ha generato preoccupazione. Secondo i sanitari infatti i casi di tubercolosi non sono così rari né gravi come in passato, dunque quello attuale non è un evento straordinario né preoccupante, anche se i numeri sono aumentati notevolmente in concomitanza con la fiera di San Giuseppe. Alle persone ammalate di tubercolosi ricoverate dall'annunziata sono state somministrate le cure farmacologiche di rito, nessuno sarebbe in pericolo di vita e per i cittadini di Cosenza la rassicurazione che non esiste alcun rischio per la popolazione.